Buongiorno a WTV News. Oggi il 9 gennaio è San Marcellino di Ancona. Oggi è anche la giornata mondiale contro i femminicidi politici proposta dalla prima conferenza delle donne del Medio Oriente per ricordare i femminicidi di Sakhin, Fidan e Leila, uccise a sangue freddo dai servizi segreti turchi il 9 gennaio 2013 nella sede dell'ufficio di informazione kurdo a Parigi. Oggi è anche la giornata nazionale del sedano rapa e la giornata mondiale dell'albicocca. Tra le persone scomparse ricordiamo Vittorio Emanuele II di Savoia morto il 9 gennaio 1878 e lo storico e filosofo Norberto Bobbio scomparso nel 2004. Altre ricorrenze celebrate oggi sono la nascita di Domenico Modugno nel 1928 e la presentazione del primo iPhone da parte di Steve Jobs nel 2007. Grazie a tutti!